Qui con Diego De Sosa abbiamo partita di Fossano a Saluzzo in una partita veramente difficile quanto importante è questo oggi portare a casa Diego, un 1-0 vitale. Per noi era fondamentale soprattutto per l'andata che avevamo fatto, sapevamo di essere una squadra forte, purtroppo i punti ci hanno un po' abbattuti e sapevamo che avevamo bisogno di una svolta. Abbiamo lavorato sodo sia nella fase natalizia per arrivare al top, oggi non abbiamo fatto una partita delle nostre con tanta qualità, con un bel gioco, però siamo stati concreti siamo riusciti a trovare il gol, l'abbiamo preparata così, l'abbiamo mantenuta per 90 minuti così e l'abbiamo portata a casa questa volta. Come ha vissuto lo spogliatoio, il cambio di allenatore, il cambio anche di gestione, penso agli allenamenti e tutto quanto? Allora, il cambio come tutte le volte ti dà una ventata di atmosfere diverse e quindi è stato positivo, c'è stato subito un entusiasmo perché magari, sai, in una rosa di 22 giocatori ci sono quelli che magari giochicchiano un po' meno, quindi le prime due settimane c'è quel entusiasmo buono che poi secondo me ci ha ridato poi quella voglia di giocarsi il posto, quella voglia di mostrare di nuovo e abbiamo capito anche noi che la maggior parte della colpa siamo noi che andiamo in campo, quindi diciamo che era, non dico che era fondamentale ma era, ci voleva e purtroppo sappiamo noi che nel calcio è difficile cambiare 20 giocatori e quindi è stato penalizzato il misto. Io volevo chiederti di parlarmi un po' se la punizione che hai preso Traversa l'hai preparata oppure che è venuta così? Allora, la punizione è una cosa che ce l'ho, eh purtroppo negli ultimi anni tramite il Covid, eh, in allenamento non mi sono mai messo lì ad allenarla però ultimamente ci stiamo provando, abbiamo due o tre giocatori in squadra, non solo io che su quelle palle ferme è importante e quindi oggi abbiamo avuto un attimino di sfortuna ma va bene così, l'importante è che siamo riusciti a portarla a casa, era fondamentale e va bene, entrerà la prossima. Quella dei gol invece è preparata? Quella invece era una nuova punizione che l'abbiamo preparata in settimana, è una delle tante che ha Mister Merlo, che lo conosco, siamo due anni che siamo stati insieme, quindi la conoscevo. Non l'avevo mai fatto dalla parte di destra, quindi poi il calcio a volte è anche un po' fortuna, il sole, la palla che è un po' lunga, ma è andata bene, è venuta quello che ci siamo preparati e siamo riusciti a concretizzarla. Tre punti che danno morale ma che fanno bene anche alla classifica. Esatto, ma soprattutto perché adesso la classifica è diventata molto più corta e sapevamo che era importantissimo fermarli soprattutto per dare di nuovo una ribollita al campionato e adesso ogni campo che andremo noi a giocare sarà tosta e quindi cercheremo sicuramente di provare a fare più punti possibile per recuperare quelli persi che abbiamo lasciato per strada l'andata e proveremo fino alla fine. Grazie.